È un riconoscimento di un percorso di gruppo. Voi sapete come quattro anni fa, proprio come oggi, decisi di mettermi da parlamentare regionale in polemica con l'operata del loro governo Crocetta e del Partito Democratico. Ho fondato in quell'occasione il Movimento dei Coraggiosi e oggi è un riconoscimento che arriva a quella scelta di stare al di fuori dei partiti tradizionali e di provare percorsi differenti. Il nostro ingresso sei mesi fa con la fondazione di Pi Europa, il risultato elettorale per le europee, che abbiamo vissuto chiaramente come una candidatura di servizio per poter affermare questa nuova forza politica, oggi ci danno ragione di quelle scelte e riconoscono a quella scelta una tribuna nazionale. Quindi è un rafforzamento sicuramente che il nostro Movimento ha su base regionale, ma soprattutto una tribuna importante a livello nazionale ed è così che noi intendiamo viverla. Una voce di un uomo del Sud, proprio in un momento in cui in Italia c'è bisogno di parlare di Sud, soprattutto in vista del piano della Lega di autonomia differenziata, che vuole un Sud sempre più arretrato e lento, quindi è importante che un partito nazionale abbia una voce di persone del Sud che possano affermare la dignità dei propri territori e poi anche un riconoscimento a chi non si è voluto mai intruppare. Avremmo potuto scegliere percorsi molto più comodi dentro partiti tradizionali che ci hanno lusingato negli anni. Abbiamo scelto anche la strada di percorrere il deserto in questi mesi, di fare analisi, di capire gli errori che avevamo commessi, ma abbiamo dovuto sempre lanciare il cuore oltre l'ostacolo per affermare le nostre idee e i nostri principi. E siamo stati cofondatori di un partito che oggi, a partire dal segretario nazionale, ci riconosce quel valore e quel ruolo che la Sicilia può portare. A proposito di Sicilia e di Sud, tante le criticità forse poco attenzionate dal governo nazionale, dal lavoro alla mobilità. Su questo noi saremo molto chiari. Innanzitutto crediamo che il Sud abbia bisogno di infrastrutture. E le infrastrutture sono la grande penalità che ha il nostro mezzogiorno. Non riusciamo ad esportare i nostri prodotti, ma non riusciamo anche a far viaggiare le persone con prezzi decenti. Basta pensare che arrivare a Roma in questi giorni ti richiede 400 euro fra andate e ritorno. Le infrastrutture sicuramente, che non sono l'assistenza e l'assistenzialismo che in questi anni abbiamo avuto, e poi non vogliamo un'Italia a più velocità. Noi lancieremo anzi una manifestazione nazionale che si chiama Viva l'Italia, proprio per far capire come il progetto di autonomia differenziata che vorrebbe la Lega vuole spaccare in due il paese.